John Borno ragazzi, John Borno, John Borno e benvenuti in questo nuovo video è quel momento lì dell'anno visto che ci stiamo avvicinando alla Champions League ragazzi è quel momento lì dell'anno quello nel quale andiamo a vedere innanzitutto poi sto video lo riprenderemo anche a fine anno le figure, quelle acce, quelle proprio acce che abbiamo fatto nei pronostici di inizio anno ma delle italiane perché chi se l'aspettava? chi se l'aspettava che il 30 di marzo saremmo stati ancora dentro tutto? ditemi, ditemi chi se l'aspettava che tranne la Lazio che ha detto ciaone proprio, tutte le altre si stanno ancora giocando la competizione europea chi? io sicuramente no anche se poi devo dire che qualcosina ma andiamo per gradi, andiamo per gradi a proposito di pronostici ragazzi vedevo da un consiglio c'ho un link qua sotto in descrizione è dei ragazzi della Match Betting Academy praticamente e raga fidatevi di me ascoltatevi cliccando qui sotto potrete andare a vedere come funziona il corso di training gratuito sul match betting ma raga per fare un introito che ovviamente io non ve sto a di vi andate a comprare la Ferrari non vi comprate la Ferrari ma un introito che comunque è un buon stipendio medio mensile potete ricavarvelo matematicamente cioè non ve sto a vendere aria fritta c'è un modo c'è un modo per vincere al 100% per guadagnare diciamo guadagnare che è meglio al 100% grazie alle quote alle quote dei bookmaker cioè voi praticamente con questo metodo potete vincere al 100% quante volte avete domandato ok ma se io dico quello faccio quell'altro vinco al 100% con questo metodo sì io se vi va ve lo lascio qua sotto in descrizione poi cavoli vostri eh io il mio il mio redditino mensile in più me lo sto facendo se volete farvelo anche voi insomma redditino manco poco date un'occhiata date un'occhiata detto questo siamo arrivati ragazzi al dunque siamo arrivati al culmine allora oddio mi si è staccato il microfono allora allora rimicrofonatemi ok mi sono rimicrofonatemi allora ho fatto il mio pronostico all'inizio anno della Conference League dell'Europa League e della Champions League tutte si chiamano League perché sono leghe in Conference League c'era la Fiorentina poi in realtà c'è entrata anche la Lazio in Europa League c'era la Roma e la Lazio poi c'è uscita la Lazio e c'è entrata la Juve in Champions League c'erano Milani Inter Napoli e Juventus quale è stato il mio pronostico di queste compagini partiamo dalla Fiorentina andando a dare un'occhiata al percorso della Fiorentina la Fiorentina è arrivata a seconda nel proprio girone dietro all'Istanbul Basak Seir e davanti agli Herz e al Rigas io l'avevo pronosticata prima quindi vabbè comunque comunque devo dire che il turno lo ha passato e quindi sotto questo punto di vista gli ho fatto saltare gli ho fatto zompa un turno felice però però un turno l'ha passato io l'ho fatta arrivare agli ottavi la Fiorentina di fatto c'è arrivata agli ottavi e c'è arrivata vincendo il sedicesimo il preliminare contro il Braga tra l'altro l'ha vinto piuttosto a spasso facendo sette gol in due partite arrivata agli ottavi la Fiorentina ha eliminato il Sivaspor ora tralasciando che tralasciando che insomma le squadre non potevo prenderle perché poi lì c'è un sorteggio io la Fiorentina l'ho fatta passare anche oltre gli ottavi secondo il mio calcolo avrebbe beccato il Lecce Poznan che in realtà tra l'altro affronterà i quarti di finale l'avrebbe eliminato e sarebbe approdata ai quarti di finale quindi l'obiettivo minimo della Fiorentina l'ho azzeccato ora la Fiorentina ai quarti di finale affronterà il Lecce Poznan io gli avevo messo contro il Ghent e l'avevo fatta passare anche contro il Ghent e quindi nel mio immaginario la Fiorentina sarebbe arrivata fino in semifinale avrebbe superato anche il turno delle semifinali? no no perché la Fiorentina nel mio pronostico di inizio anno usciva in semifinale ora gli auguro di vincere la Conference League però avrebbe tutte le possibilità del caso di andare avanti dopo i quarti e poi magari uscire in semifinale io l'avevo accoppiato al Feyenoord che per me usciva dall'Europa League e andava a vincere quest'anno la Conference League non è andata esattamente così il Feyenoord è in Europa League a fronte alla Roma però comunque il piazzamento minimo l'ho preso passiamo alla Roma per quanto riguarda la Roma la Roma è arrivata fino ai quarti di Europa League ha fatto un girone abbastanza travagliato nel senso che ha faticato me l'aspettavo non così tanto faticoso ma me l'aspettavo io avevo pronosticato la Roma seconda e di fatto la Roma seconda è arrivata però avevo pronosticato che la Roma vincesse tutte le partite tutte le altre quattro partite pareggiasse le due carri con il Betis e per differenza lì uscisse invece la Roma è per miracolo che è passata perché se andava a guardare la classifica la Roma è alla seconda a 10 punti meno 6 dal Betis ha perso entrambe le carri con il Betis ha pareggiato con il Ludo Goretz lì quindi insomma bene non è andata però comunque è passata la seconda l'ho preso in pieno poi avevo pronosticato che ai sedicesimi avrebbe beh qui non è che posso prendere chi becca ai sedicesimi chi becca però ho pronosticato che ai sedicesimi vince e quindi va bene gli ho messo un avversario forse addirittura più tosto ma siamo lì la Roma ha preso il Salisburgo e io gli avevo messo i Rangers di Glasgow quindi va bene poi agli ottavi la Roma è passata contro la Real Sociedade e io gli ho messo che passava contro l'Union Berlin e quindi anche qua l'ho messo ora la Roma è arrivata ai quarti di finale io ho messo che sarebbe uscita ai quarti di finale mi auguro che non accada perché perché uno perché tifo Roma due perché in italiana tre perché gli avevo messo l'accoppiamento con il Manchester United e avrei anche capito avrei anche capito l'eliminazione della Roma dall'Europa League con il Manchester United e invece affronteremo il Feyenoord non è da sottovalutare poi se passi chi vince tra Union San Gillo e Leverkusen non è da sottovalutare però nessuna di queste sono il Manchester United quindi al momento ho preso anche la Roma ai quarti come ho preso la Fiorentina ai quarti ho preso anche la Roma ai quarti ero stato molto positivo sotto sto punto di vista al momento non posso dire nulla però comunque mi auguro di sbagliarmi a questo punto arriviamo all'altra squadra dell'Europa League ovvero la Lazio la Lazio ha affrontato un girone con Midtilland Feyenoord e Sturm Graz io la Lazio l'avevo messa al primo posto al primo posto del girone davanti al Midtilland terzo il Feyenoord che sarebbe retrocesso in conference per poi eliminare la Fiorentina e quarto lo Sturm Graz la Lazio invece a grande sorpresa è arrivata terza cioè quindi su questo ho sbagliato in pieno io la Lazio l'ho mandata direttamente agli ottavi la Lazio manco ai sedicesimi se è qualificata e anzi poi ha fatto una mini figuraccia in Europa League uscendo praticamente subito cioè no ha eliminato il Cluj e poi dopo è uscito al turno dopo contro la Z che si poteva la Z che si poteva sicuramente battere e la Lazio addirittura avevo detto vabbè no addirittura niente poi agli ottavi l'avevo messa sfigata contro il Barcellona che usciva a mio avviso dalla Champions League e beccava poi la Lazio dopo aver eliminato una squadra non ricordo in intermezzo ai playoff di Europa League avrebbe beccato la Lazio e la Lazio poi sarebbe uscita contro il Barcellona quindi avevo previsto un disastro totale delle nostre italiane in Europa perché ok che la Fiorentina beccava il Ghent ai quarti però la Roma beccava lo United dalla Lazio il Barcellona era meglio insomma picchiettarsi la testa la Lazio l'avevo messa così agli ottavi hanno avvero la Roma United dai quarti la Lazio agli ottavi il Barcellona subito sfiga per entrambe però invece la Lazio è uscita prima quindi manco ha aspettato di arrivare ad affrontare il Barcellona è uscita prima che poi è uscito anche il Barcellona con lo United ad onore del vero ma questa è un'altra storia qui ho fatto un disastro la Juventus la Juventus ha fatto una figuraccia in Champions League perché? perché i bianconeri in un girone con Paris Saint Germain Benfica e Maccabi sono arrivati i terzi dietro al Benfica primo dietro al Paris Saint Germain secondo e davanti in realtà stessi punti quindi assurdo al Maccabi terzo facendo solamente tre punti quella Juventus per me vedendo i gironi poteva fare molto meglio ora la Juventus è ai quarti di Europa League quindi io adesso non so che dirvi però poteva fare molto meglio ma molto meglio la Juventus e io l'avevo pronosticata seconda nel girone seconda super fortunata perché? perché dopo aver eliminato il Benfica l'avevo messa dietro al Paris Saint Germain a mio avviso avrebbe beccato il porto che passava primo nel girone con l'Atletico Madrid Leverkusen e Club Brugge con l'Atletico Madrid che invece sarebbe passato secondo e ci torniamo tra un pochino la Juventus secondo la mia visione avrebbe preso il porto agli ottavi quindi l'avrebbe eliminato e poi si sarebbe arresa solamente ai quarti di finale contro un Bayern Monaco più forte che tra l'altro usciva dal girone dell'Inter da primo della classe perché l'Inter aveva nel girone il Barcellona che poi affronta la Lazio e il Bayern Monaco che poi affronta la Juventus la Juventus l'avevo fatta fuori ai quarti di finale di Champions e invece è stata la grande delusione dell'anno perché la Juventus fa l'Europa League può vincerla l'Europa League sebbene sia finita nella parte sinistra del tabellone quella tostissima con lo United con lo Sporting e con il Siviglia è quasi andata bene perché al posto dello Sporting ci poteva essere l'Arsen quindi poteva essere Juve Arsenal e United una mini Champions League ma soprattutto perché è uscita facendo una figuraccia dal girone di UEFA Champions League e io l'avevo messa ai quarti di finale quindi qui ho preso un grande abbaglio Inter l'Inter è passata seconda nel girone dietro al Bayern Monaco e davanti al Barcellona e io l'avevo messa seconda nel girone dietro al Bayern Monaco e davanti al Barcellona poi l'Inter ha beccato il Porto che io ho dato alla Juventus in realtà io all'Inter avevo fatto beccare una squadra che un'italiana ha preso ovvero il Tottenham gli Spurs che sono finiti con il Milan nella realtà il Milan ha eliminato il Tottenham io qui con l'Inter che adesso ha eliminato il Porto e quindi giocherà contro il Benfica il quarto di finale di Champions io qui avevo messo l'Inter eliminata agli ottavi dal Tottenham quindi le mie vibes prevedevano che Antonio Conte sarebbe tornato a giocare contro l'Inter e che a sorpresa l'avrebbe fatta fuori avrebbe fatto fuori l'Inter per poi uscire agli ottavi di finale e invece ai quarti di finale perdonatemi e questo invece non è accaduto non è accaduto perché? perché l'Inter è andato avanti battendo il Porto il Milan in realtà è andato avanti battendo appunto Antonio Conte quindi io qua diciamo che ho preso il fatto che l'Inter passasse seconda non era semplice molti la davano per spacciata avendo pescato Bayern Monaco e Barcellona poi però gli ho dato poco credito agli ottavi di finale invece sono stati molto molto bravi giocheranno il quarto con il Benfica che tra l'altro io ho eliminato anni fa il Benfica i gironi con la Juve per dire il Milan il Milan l'avevo dato primo nel girone davanti al Chelsea col Salisburgo terzo e la Dinamo Zagabria quarta il Milan è arrivato secondo quindi ho solamente invertito solamente che arrivando per primo al Milan gli ho pescato la seconda tra l'altro del girone che è capitato alla Juventus quindi la Juventus da seconda ha preso il Porto primo mentre al Milan primo avevo messo l'Atletico Madrid secondo quindi il mio ottavo di finale era Milan Atletico Madrid Milan Atletico Madrid agli ottavi di finale il Milan in realtà ha pescato il Tottenham ma comunque non mi importa l'importante è prendere il piazzamento ho messo che il Milan passava e quindi arrivava ai quarti di finale avete capito bene quindi fino a questo momento avevo pronunciato almeno due italiane ai quarti di finale una poi dopo vedremo il Napoli agli ottavi di finale cioè l'Inter ferma agli ottavi Milan e Juve eh Milan e Juve Inter ferma agli ottavi Milan e Juve ai quarti il Milan però per me usciva contro il Paris Saint Germain quindi andava a casa ai quarti di finale concludiamo con il Napoli il Napoli che era capitato in un girone tosto con Liverpool Ajax e Rangers in quel girone gli avevo messo Liverpool primo Napoli secondo Rangers terzo addirittura Ajax quarto gli avevo eliminato l'Ajax in realtà i Rangers hanno fatto zero punti poi i Rangers avrebbero secondo me preso la Roma in Europa League ma questa è un'altra storia che Voggio ha raccontato quindi il Napoli per me passava da secondo la sfiga voleva che il Napoli ha preso l'Aintracht passando da primo e in realtà passando da primo avrebbe preso anche in un girone in un girone in quel girone lì l'Ipsia quindi ci poteva stare in realtà passando da secondo io gli ho messo il Real Madrid che tra l'altro voglio dirvi una cosa molto divertente perché il Liverpool ha pescato proprio il Real Madrid arrivando secondo quindi il Napoli arrivando in quel girone secondo avrebbe davvero pescato il Real Madrid e invece ha pescato l'Aintracht di Francoforte il Napoli che pescherà il Real Madrid per me non ce la fa quindi esce agli ottavi di Champions League ricordiamo che anche un momento quando ci stanno i sorteggi inizio a settembre credo o fine agosto forse fine agosto addirittura in cui questo Napoli non è ancora questo Napoli è un Napoli che ancora non ha fatto i tre nulla forse manco è iniziato il campionato quindi figuratevi e io non posso dirvi al tempo ai gironi che questo Napoli avrebbe sfracelato tutto eppure gli ho dato fiducia nonostante quel rinnovamento ho detto per me il giro ne lo passa poi però si ferma facendo un'ottima figura contro il Real Madrid ecco io quindi ho messo il Milan ai quarti l'ho preso l'Inter agli ottavi è arrivato ai quarti il Napoli agli ottavi è arrivato ai quarti la Juve ai quarti esce dai gironi l'Europa ai quarti ma d'Europa League la Lazio agli ottavi di Europa League invece è stata eliminata agli ottavi di Conference la Roma l'ho messa ai quarti di Europa League è ai quarti di Europa League e la Fiorentina in semifinale di Conference League e la Fiorentina in realtà è a giocarsi il quarto di Europa League e poi vedremo quello che succederà la cosa però che non ci ho preso è che una trammina nel Napoli andrà in semifinale dei semifinalisti non ne ho presa ovviamente manco una non pensavo mai che un'italiana potesse andare a giocare nella semifinale di Champions League invece una sicuramente ci andrà quindi questa è una gran cosa forse anche due se l'Inter riuscisse a battere il Benfica ma questo lo scopriremo giusto per chiudere il cerchio e andare a guardare le partite le altre semifinaliste che non ho citato le altre squadre quarti di finale non ho citato sono Bayern Monaco Manchester City Real Madrid e Chelsea avevo messo Real Madrid Bayern Monaco Manchester City e Paris Saint Germain quindi in realtà tre le ho prese l'unica eliminata è perché ha affrontato un'altra big cioè il Paris Saint Germain che ha affrontato il Bayern per il resto Bayern e Real per me uscivano in semifinale contro City e Paris Saint Germain in realtà questo non potrà accadere perché potrebbe essere le semifinali Chelsea per dire anzi facciamo Real Bayern però poi dall'altra parte ci sono tutte italiane avevo eliminato il Liverpool ai quarti è uscito agli ottavi ma perché ha beccato il Real avevo eliminato il Tottenham ai quarti è uscito agli ottavi perché ha beccato il Milan agli ottavi avevo eliminato anche altre squadre come Porto Sporting Atletico Siviglia Lipsia e il Chelsea che invece è zitto si tra i quarti di finale a fronte del Real Madrid ma gli è andata anche discretamente bene e questo è tutto ma questo è un pronostico se voi volete come vi ho detto a inizio video far qualche soldino che poi qualche soldino manco poco un buon reddito mensile un buon reddito mensile però non con i pronostici è matematica è matematica allora vi consiglio di passare dal link in descrizione perché i ragazzi di Matched Betting Academy vi insegneranno come fare fateci un salto e avrete anche voi come sto facendo in questo momento un reddito mensile da aggiungere a quello che già fate che però in realtà è un ottimo reddito quindi nemmeno troppo se devo essere dicendo da aggiungere a quello che già fate certo non ve comprate la Ferrari come vi dicono i guru ma in realtà è un ottimo reddito mensile fatemi sapere la vostra iscrivetevi al canale io vi ringrazio link in descrizione boccia all'ala e noi come sempre ci vediamo un prossimo video